Kirzali era bulgaro d'origine. Kirzali in turco significa paladino ardito e il suo vero nome non lo conosco. Kirzali con i suoi brigantaggi ha portato il terrore in tutta la Moldavia. Per dare un'idea di com'era racconterò una delle sue imprese. Una volta di notte lui e l'Arnau Mikhailki si gettarono in due su un villaggio bulgaro, lo incendiarono dai due lati e cominciarono a passare da una capanna all'altra. Kirzali sgozzava e Mikhailki prendeva il bottino. Gridavano entrambi Kirzali! Kirzali! Tutto il villaggio si diede alla fuga. Quando Alexandri Psilanti proclamò l'insurrezione e cominciò a raccogliere intorno a sé un esercito, Kirzali gli portò alcuni dei suoi vecchi compagni. Il vero scopo dell'eteria lo capiva male, ma la guerra offriva l'occasione di arricchirsi a spese dei turchi e forse anche dei moldavi. E questo gli sembrò evidente. Alexandri Psilanti in sé era coraggioso, ma non aveva le caratteristiche necessarie al ruolo che aveva assunto così appassionatamente e in modo così imprudente. Non era capace di trattare le persone che avrebbe dovuto guidare. E se non avevano per lui né rispetto né fiducia. Dopo l'infelice battaglia in cui morì il fiore della gioventù greca, Iordechio Limpioti gli consigliò di allontanarsi ed egli stesso ne prese il posto. Psilanti scappò al confine austriaco e da là gettò la sua maledizione su uomini che chiamò disubbidienti vigliacchi e mascalzoni. Questi vigliacchi e mascalzoni per la maggior parte morirono sulle mura del monastero di Secu o sulle sponde del Prut, difendendosi disperatamente contro un nemico dieci volte più forte. Chirzali era nel drappello di Georgi Kantakuzin, per il quale si possono ripetere le stesse cose dette dei Psilanti. Alla vigilia della battaglia di Sculiani, Kantakuzin chiese al comando russo il permesso di entrare nel nostro campo di quarantena. Il drappello rimase senza comandante, ma Chirzali, Safianos, Kantagoni e gli altri non avevano nessun bisogno di un comandante. La battaglia di Sculiani, sembra, non è stata descritta da nessuno in tutta la sua toccante verità. Immaginatevi 700 arnauti, albanesi, greci, bulgari e ogni tipo di marmaglia senza nessuna idea dell'arte della guerra che retrocede alla vista di 15.000 cavalieri turchi. Questo drappello si strinse alla riva del Prut e pose di fronte a sé due piccoli cannoncini, trovati ai assi nel cortile del Gospodar e dai quali si sparava di solito per le feste dell'onomastico. Ai turchi sarebbe piaciuto usare la mitraglia, ma non usavano senza il permesso del comando russo. La mitraglia sarebbe senz'altro arrivata sulla nostra riva. Il capo del campo di quarantena, ora già defunto, che serviva da quarant'anni nell'esercito, non aveva mai sentito in vita sua il fischio delle pallottole. Ma lì il Signore glielo fece sentire. Alcune di esse ronzarono intorno alle sue orecchie. Il vecchietto si irritò sommamente e rimproverò aspramente per questo il maggiore del reggimento di fanteria dei cacciatori che si trovava in quarantena. Il maggiore, non sapendo cosa fare, corse al fiume oltre il quale cavalcavano i delibashi e li minacciò col dito. I delibashi, visto ciò, fecero dietro fronte e partirono al galoppo e dietro di loro tutto il drappello turco. Il maggiore, che aveva minacciato col dito, si chiamava Ciorzewski. Non so che fine abbia fatto. Il giorno dopo, però, i turchi attaccarono gli eteristi. Non osando impiegare né la mitraglia né le palle di cannone, decisero, contrariamente al loro solito, di agire all'arma bianca. La battaglia fu crudele. Si combatté a colpi di Yatagan. Dalla parte dei turchi furono notate delle lance, che fino ad allora non avevano usato. Queste lance erano russe. Dei neklasovci combattevano tra le loro fila. Gli eteristi, con il permesso del nostro sovrano, potevano passare dall'altra parte del Prut e rifugiarsi nel nostro campo di quarantena. Cominciarono ad attraversare. Cantagoni e Safianos rimasero per ultimi sulla riva turca. Chirzali, ferito alla vigilia, era giù nel campo di quarantena. Safianos fu ucciso. Cantagoni, uomo molto grosso, fu ferito da una lancia nel ventre. Con una mano alzò la spada, con l'altra piantò la lancia più profondamente dentro di sé e in tal modo poteva prendere con la spada il suo assassino, insieme al quale cadde. Tutto era finito. I turchi rimasero vincitori. La Moldavia fu sgomberata. Seicento arnauti circa si sparsero per la Bessarabia. Non sapendo come sostentarsi, erano comunque grati alla Russia per la sua protezione. Facevano una vita oziosa, ma non dissoluta. Li si poteva sempre vedere, nei caffè della semiturca Bessarabia, con in bocca i lunghi cannelli delle pipe, a sorseggiare fondi di caffè da piccole tazzine. Le loro giacche ricamate e le loro scarpe a punta cominciavano già a logolarsi, ma il loro zuccotto impennacchiato era sempre messo di sghembo e gli atagan e le pistole pendevano sempre dalle larghe cinture. Nessuno si lamentò di loro. Non si poteva nemmeno pensare che questi pacifici poverazzi fossero i celeberrimi clefti della Moldavia, compagni del terribile Kirzali, e che egli stesso si trovasse tra loro. Il Pasha che comandava Iassi lo venne a sapere e, a fondamento dei negoziati di pace, chiese al comando russo la consegna del brigante. La polizia si mise a indagare. Vennero a sapere che Kirzali si trovava effettivamente a Kishinieff. Lo presero a casa di un monaco fuggito dal convento di sera, mentre cenava al buio con sette compagni. Kirzali fu messo sotto scorta. Non si mise a negare la verità e confessò di essere Kirzali, ma aggiunse, dal momento in cui ho attraversato il Prut non ho toccato un capello di roba altrui, non ho offeso nemmeno l'ultimo zingaro. Per i turchi, per i moldavi, per i valacchi io naturalmente sono un brigante, ma per i russi sono un ospite. Quando Sefianos, dopo aver sparato tutti i colpi della sua mitraglia, è venuto da noi, nel campo di quarantena, a togliere ai feriti con le ultime cartucce e i bottoni, i chiodi, le catenine, l'else degli Yatagan, io gli ho dato venti beslik e sono rimasto senza soldi. Dio vede che io, Kirzali, vivevo di elemosine, e allora perché adesso i russi mi consegnano ai miei nemici? Dopodiché Kirzali tacque e si mise tranquillo ad aspettare l'assoluzione del proprio destino. Non aspettò a lungo. Il comando, non obbligato a guardare i briganti dal loro romantico punto di vista e convinto della giustezza della richiesta, ordinò di mandare Kirzali a Yassi. Un uomo di cuore ed ingegno a quell'epoca, un uomo di cuore ed ingegno a quell'epoca giovane funzionario sconosciuto, che occupa oggi una posizione importante, mi descrisse vividamente la sua partenza. Alle porte della fortezza c'era una caruca postale. Forse voi non sapete che cos'è una caruca. È una bassa carretta di vimini, alla quale ancora poco tempo fa si attaccavano di solito sei o otto piccole rozze. Un moldavo coi baffi e un cappello di montone, seduto a cavallo di una di esse, gridava e faceva fischiare la sferza continuamente. E le due piccole rozze? E le due piccole rozze correvano a un trotto abbastanza robusto. Se una di esse cominciava a impicciarsi, lui la staccava con orribili maledizioni e l'abbandonava per strada, indifferente al suo destino. Sulla via del ritorno era certo di trovarla in quello stesso posto, a pascolare tranquillamente nella verde steppa. Non succedeva di rado che un viaggiatore partito da una stazione con otto cavalli arrivasse a quella successiva con un paio. Così si faceva una quindicina di anni fa. Adesso, nella Bessaravia russificata, hanno adottato le bardature russe e la carrozza russa. Questa caruca era alle porte della fortezza nel 1821, in uno degli ultimi giorni del mese di settembre. Le giudee, con le maniche abbassate e tracinando le ciabatte, gli arnauti, nel loro abbigliamento lacero e pittoresco, le snelle moldave con in braccio bambini dagli occhi neri circondavano la caruca. I uomini conservavano il silenzio. Le donne aspettavano con fervore. Le porte si aprirono e qualche ufficiale della polizia sbuccò in strada. Dietro di loro due soldati conducevano Chirzali incatenato. Dimostrava una trentina d'anni. I tratti del suo viso rivastro erano regolari e severi. Era alto, le spalle larghe, e in generale in lui si esprimeva una straordinaria forza fisica. Un vistoso turbante, messo di traverso, gli copriva la testa. Una larga cintura abbracciava la sua vita sottile. Una divisa da ussaro di grosso panno blu, una camicia dalle grandi pieghe che arrivavano fin sopra i ginocchi, e delle belle scarpe costituivano il resto del suo abbigliamento. Il suo aspetto era fiero e tranquillo. Uno dei funzionari, un vecchietto tutto rosso, con una divisa sbiadita sulla quale dondolavano tre bottoni, schiacciò con gli occhiali di stagno il bernoccolo purpureo che aveva al posto del naso, e con intonazione nasale cominciò a leggere in lingua moldava. E tanto in tanto gettava uno sguardo altezzoso all'incatenato Chirzali, al quale evidentemente si riferiva il documento. Chirzali lo ascoltava con attenzione. Il funzionario finì la sua lettura. Ripiegò il documento, gettò un grido terribile alla folla, ordinandole di disperdersi, e comandò la partenza della caruca. Allora Chirzali gli si rivolse e gli disse qualche parola in lingua moldava. La sua voce tremò, il viso cambiò, scoppiò a piangere, e cadde ai piedi del funzionario di polizia facendo risuonare le proprie catene. Il funzionario di polizia, spaventato, fece un salto all'indietro. I soldati volevano sollevare Chirzali, ma lui si alzò da solo, raccolse i propri ceppi, salì sulla caruca e gridò «Forza!». Un gendarme gli si sedette accanto. Il moldavo fece schioccare la sferza e la caruca si mosse. «Cosa ti ha detto Chirzali?» chiese il giovane funzionario al poliziotto. «Lui deve sapere, beh, mi ha pregato, rispose ridendo il poliziotto, di occuparmi di sua moglie e del figlioletto, che vivono poco lontano da Chirzali, in un villaggio bulgaro. Ha paura che essi soffrano per causa sua. La gente è scema, beh!» Il racconto del giovane funzionario mi colpi molto. Mi dispiaceva per il povero Chirzali. A lungo non seppi niente del suo destino. Qualche anno dopo mi incontrai con il giovane funzionario. discorremmo del passato. «E che ne è stato del suo amico Chirzali?» chiesi. «Non sa per caso cosa gli è successo?» «Come non sapere?» rispose lui. «E mi raccontò quello che segue. Chirzali, condotto a Yassi, fu presentato al Pasha, che lo condannò al palo. Il supplizio fu rimandato a una certa festa. Nel frattempo lo misero in prigione. Il prigioniero era custodito da sette turchi, uomini semplici e dall'animo altrettanto briganti quanto Chirzali. Lo rispettavano e, con l'avidità comune a tutta l'Oriente, ascoltavano i suoi racconti favolosi. Tra le guardie il prigioniero si creò una stretta relazione. Una volta Chirzali disse loro «Fratelli, la mia ora è vicina. Nessuno sfugge al suo destino. Presto vi dirò addio. Vorrei lasciarvi qualcosa in ricordo». I turchi aprirono le orecchie. «Fratelli», continuò Chirzali, «tre anni fa, mentre brigantavo con il povero Mikhailaki, sotterrammo nella steppa, poco lontano da Yassi, una pentola piena di galbini. Evidentemente ne a meno a lui era dato possedere questa pentola. Sia, prendetela e dividetela amichevolmente». I turchi per poco non impazzirono. Cominciarono a discutere su come trovare il luogo segreto. Pensarono, pensarono e poi proposero che fosse Chirzali stesso a guidarli. Venne la notte. I turchi tolsero i ceppi dai piedi del prigioniero. Gli legarono le mani con una corda e si diressero con lui alla città, nella steppa. Chirzali li conduceva, tenendo la stessa direzione da un kurgan all'altro. Camminarono a lungo. Alla fine Chirzali si fermò vicino a una grande pietra. Contò venti passi verso mezzogiorno. Batte il piede e disse «qui». I turchi si misero all'opera. Quattro sguainarono gli yatagan e cominciarono a vangare la terra. Tre rimasero di guardia. Chirzali si sedette sulle pietre e si mise a guardare il loro lavoro. «Beh, manca molto», chiese. «Avete finito?» «No, non ancora», rispondevano i turchi e lavoravano tanto che erano zuppi di sudore. Chirzali cominciava a mostrare impazienza. «Che gente!» diceva. «Neanche la terra sanno zappare come Dio comanda. Se ci avessi messo le mani io, la cosa sarebbe finita in due minuti. figliuoli, slegatemi le mani, datemi uno yatagan». I turchi si fecero pensierosi e cominciarono a consigliarsi tra di loro. «Beh», pensarono, «sleghiamogli le mani e diamogli uno yatagan. Che problema c'è? Lui è da solo, noi siamo sette». E i turchi gli slegarono le mani e gli diedero uno yatagan. Infine Chirzali era libero e armato. Qualcosa doveva pur sentire. Si mise a zappare agilmente e i guardiani lo aiutavano. A un tratto egli infisse lo yatagan in uno di essi e lasciando la spada d'acciaio nel suo petto, estrasse dalla sua cintura due pistole. Gli altri sei, vedendo Chirzali armato di due pistole, fuggirono. Chirzali, adesso, brigante vicino a Yassi. Da poco ha scritto ai gospodar chiedendogli 5.000 leoni e minacciando, in caso di mancato pagamento, di bruciare Yassi e di arrivare fino a gospodar in persona. 5.000 leoni gli sono stati consegnati. Che tipo è? Chirzali.